Proviamo, ma che ora ci ammazziamo? Guarda, subito eh, bastarda, guarda qua, cioè se se lo giravano in terra, guarda, spettente, occhio qua eh, a chiudere, hai occhio, sei l'unico occhio che c'è qua. I Dyulare, ifu! Iyora, ifu! Sì, ho scattato le osso! Io l'alai! LUP! LUP! Non abbiamo scattato le otto senza capo di più! Devi salire! Perchè la mia massa? Sì, devi iniziare! Ehi, ci ho provato io un'altra volta! Porca noca! Sì, però almeno c'è anche questa! Ascolta! Sì! 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 Sì!